L'estate scorsa io e Piero siamo capitati, per sbaglio, in un campo di nudisti. No! Sì! Non le dico cosa si vedeva pensolare da quegli giovannopoli, belli, alti, biondi, muscolosi. Dove? E' messa in a me, cara. Dove? Geograficamente. Ah, in qua. Ci fa sola? Sì, sì, c'è il pulva che parte, non va la piazza d'Orovo. A che ora? A mattina finisca, cara, subito dopo la prima messa, si parte. Dopo che ti ho visto passare davanti sta passerella di melanzane, e Piero mi fa, cosa dici, Norina? Mi spoglio anch'io. Mi troppo Piero, ascia stare. Devo a casa, dai, dai. Devo a casa che facciamo la figura degli spilorci. Non caderemo una puntata di depressione cortica, mi hanno consigliato di avvicinarmi alla New Age. Piero. Allora io mi sono iscritta a un corso di painting, breaking, revert, danzando le crampi. Alberto Porci ha un corso di glade. Ecco, come va il glade? E se è funzionato bene con un cesso, è il prodotto che fa per te. Tu ti alzi dalla sedia e il tuo culo rimane seduto. E rimane seduto anche quando te lo porti in giù. Io ho il culo così basso che se metto i jeans a vita bassa mi si vedono le ginocchia. No, ma a me mi servirebbe più qualcosa per lasciodare davanti. No, bisogna una crema di lui che le vendo io, perché le preferite. No, 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 non per me. Piero. È perché mi soffre di mollezze inguinali. Chiamarlo Henry sarebbe già fargli un complimento. Dico che io lo chiamo Lazzaro. Perché per farlo solo ci vorremmo un miracolo.